Un saluto a tutti da Stefania Cattaneo di Trevi Meteo, restate aggiornati con noi con le nostre previsioni scaricando l'app per smartphone e tablet. Dall'Europa alta pressione alle alte latitudini, aria fredda nel nord-est con nevicate fino in pianura. Ma entriamo ora nella particolare della nostra penisola, ancora residui fenomeni al sud e poi un peggioramento che arriva in serata a partire dal nord. In tutto questo vedete le temperature sono stabili, un lieve calo tra i 10 e i 15 gradi. E ora il particolare del nord Italia, inizio di giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, poi peggiora dal nord-est con fenomeni in estensione al nord-ovest dove potranno essere anche a tratti più intensi con nevicate fino a quote basse. Al centro della nostra penisola inizialmente discreto con ampie schiarite salvo occasionali precipitazioni sul Lazio e poi in serata generale aumento delle nubi con qualche fenomeno ancora una volta sull'Appennino e sul basso Lazio. Infine al sud è come vi anticipavo inizio di giornata già con qualche pioggia sparsa e poi entro sera tende a peggiorare un po' su tutte le regioni peninsulari così come sulla Sardegna. Per il momento è tutto da Trevi Meteo, vi invito a restare aggiornati con noi e con le nostre previsioni scaricando l'app, smartphone e tablet.